La prostituzione ai tempi del lockdown, cari amici, sì, la prostituzione ai tempi del lockdown. Il fatto è che in Italia, solo in Italia, le donne vittime della prostituzione, le donne che fanno le prostitute per forza, sono 70.000 e 9 su 10 di queste 70.000 schiave del sesso, 9 su 10 sono straniere, 1 su 10 addirittura è minorenne, 1 su 10, 70.000, ci sono 7.000 prostitute minorenne schiave del sesso. Queste prostitute che prima lavoravano quasi tutte per strada, per strada, quasi tutte, mica tutte, Ah, qua non si parla delle escort, eh? Non si parla delle escort, le escort sono un altro paio di maniche. Beh, queste 70.000 prostitute schiave che prima lavoravano per strada, ora non possono più lavorare per strada e quindi non guadagnano più niente, non hanno i soldi per mangiare, come io gli spiegavo nel passato, sono costrette a rivolgersi alla Caritas, anzitempo, 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 oppure sono costrette a indebitarsi, sono costrette a indebitarsi. Quindi nasce una nuova forma di sfruttamento dentro lo sfruttamento e non potranno costoro queste 70.000 schiave del sesso, quasi tutte straniere, non potranno neanche beneficiare dei 600 euro, 800 euro previsti dal governo per tutti quei lavoratori che sono costretti a non lavorare a causa del blackdown. Poi c'è il discorso delle escort, le escort sono le lavoratrici del sesso, le volontarie del sesso che lavorano in casa propria, ma anche per costoro, anche per queste escort, anche per queste escort sono tempi magri perché i clienti fanno fatica a spostarsi, fanno fatica a spostarsi i clienti, capito? Ci vogliono dei motivi per spostarsi, quindi sia per le schiave del sesso, si dice che siano 70.000 in Italia, quasi tutte straniere, sia per le schiave del sesso, quelle che fanno le prostitute contro la loro volontà, ed esercitano il mestiere per strada, che per le escort che sono prostitute volontarie, che il mestiere lo fanno volontariamente, il blackdown è stato una doppia rovina, perché per tutti i lavoratori italiani che non possono lavorare a causa del blackdown, il governo ha previsto 600 euro al mese, 800 euro al mese, costorrono queste schiave del sesso, sia le 70.000 schiave del sesso, che quanto, quante saranno, che le escort, queste non possono chiedere il contributo governativo, capito? Quindi non è una cosa simpatica, che dobbiamo riflettere su queste cose, noi che abbiamo la possibilità di andare a fare la spesa al supermercato, che abbiamo la possibilità di fare la spesa, e con questo qua ci sono 150.000, 200.000 donne, che non hanno i soldi per fare la spesa. Ok cari amici? Bene cari amici, A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni. Grazie. Grazie. Grazie.